Trovato con 12 dosi di cocaina e stato arrestato, si tratta di un pusher di origini nigeriane irregolare sul territorio italiano. L'episodio è accaduto nella notte appena trascorsa in pieno centro ad Arezzo alle 3 circa del mattino. I poliziotti transitando nei pressi di via Spinello hanno notato tre uomini. Sono scesi dall'auto e avvicinandosi hanno notato che uno di loro stava consegnando ad un altro un involucro di cellofan di colore bianco, ricevendo in cambio delle banconote arrotolate. I tre, vedendo gli agenti, si sono subito dati alla fuga scappando ognuno in direzioni diverse. I poliziotti si sono così messi sulle tracce dell'uomo che aveva ceduto l'involucro riuscendo a rintracciarlo in piazza Sai Jacopo. È stato qui dopo una breve collutazione che lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione. Addosso aveva 12 involucri di cellofan contenenti cocaina. L'uomo, con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato e trasferito in carcere ad Arezzo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.